buongiorno sono alessandra canuti master crystal nails sono qui oggi per presentarvi due delle fantastiche novità in uscita nel nostro catalogo ad un inverno sono i nuovissimi tiger a infinity di altre due fantastiche colorazioni che riguardano il color argento e una bellissima tonalità d'oro per esaltare la brillantezza dei nostri tiger eye vi consiglio di utilizzare una base molto scura in questo caso ho scelto il nostro r7 grazie alla sua fantastica coprenza sarà sufficiente una sola stesura che andremo a polimerizzare il lampado vi per circa 30 secondi sulla quale poi andremo ad applicare i nostri tiger eye facciamo tutti l'utilizzo del nostro tiger eye ma oggi voglio farvi vedere l'utilizzo di entrambe le tonalità di colore e della nostra calamita rotonda inizierò utilizzando la tonalità sull'oro rilasciandolo in maniera sottile sulla nostra tip in diverse zone una volta rilasciato il nostro tiger eye sulla superficie vado con la calamita spingere le particelle metalliche lateralmente per creare un effetto sfumato quasi maculato a questo punto blocco l'effetto desiderato in lampada ov per circa 10 secondi ripetiamo l'effetto questa volta utilizzando la tonalità sull'argento in questo caso ho distribuito con il colore silver delle macchie sulla superficie della dip e questa volta sempre con la calamita rotonda vado a creare un effetto contrastante quindi direzionale spingendo le particelle dal lato opposto in questo modo ho creato un effetto di contrasto e di movimento una volta soddisfatti dell'effetto finale vado a sigillare il tutto con il nostro top cool dopo aver applicato il top cool andrò in lampada e lo lascerò polimerizzare tre minuti vi ricordo che i nostri tiger eye fanno parte della linea semi permanente cristalac pertanto potremo utilizzarli su una base di un tre step in quanto totalmente solubili oppure su qualsiasi struttura realizzata con i nostri prodotti sia in gel in agrilico e anche in altri gel grazie per l'attenzione ci vediamo al prossimo tutorial